Cartier-Benoir, l'orologio dalla forma ellittica. Cartier, nel 1912, svelò al mondo un orologio dalla cassa rettangolare con estremità arrotondate, un design che avrebbe lasciato un'impronta duratura nella storia dell'orologeria. Nel 1958, questo design subì alcune modifiche e innovazioni, dando vita a un orologio noto come Oval-Santré, caratterizzato da una cassa leggermente incurvata che seguiva elegantemente le linee del polso. È da qui che nasce la leggenda del Benioir, un orologio che ha continuato ad affascinare il mondo per decenni. Il suo vetro bombato e il quadrante con numeri romani incorniciati da una fascia in oro liscio rappresentano una combinazione straordinaria di forme e materiali. Il Benioir è diventato sia miniaturizzato che amplificato. In una versione, la delicata cassa è circondata da una lunetta luminosa in oro giallo, creando un contrasto affascinante con il cinturino in pelle nera verniciata. Questa interpretazione dell'orologio riflette l'eleganza essenziale, mentre l'altra celebra il motto, Less is more. In questa variante, l'emblema ovale si trasforma in un bracciale in oro scintillante che avvolge elegantemente il polso. Il nome, Benioir, che significa, vasca da bagno, in francese, potrebbe sembrare prosaico per un orologio così straordinario. Tuttavia, questo nome ha un'origine affascinante. Si dice che sia stato ispirato da una chatelaine in oro, con brillanti e onice, donata come regalo alla Granduchessa Pavlovna nel 1912. Questo regalo è stato presentato dal fondatore di Cartier, Louis Cartier, durante uno dei suoi viaggi a San Pietroburgo. La Granduchessa era la sorella dello zar Nicola II, e Cartier era diventato fornitore ufficiale della corte russa nel 1907. Negli anni, il Benioir è stato indossato da alcune delle donne più affascinanti e intelligenti del mondo, diventando un simbolo di stile intramontabile. Oggi, il Benioir si presenta in nuove versioni. Tra queste, il modello mini con un bracciale rigido in oro giallo o rosa è indubbiamente il protagonista. La sua forma circolare, dal design elegante e minimalista, offre un tocco di sensualità e morbidezza al polso. Nonostante le dimensioni compatte, il Benioir mini brilla con straordinaria verve, grazie all'armonia delle forme e al design ergonomico. Il quadrante argente presenta numeri romani classici, lancette a gladio in acciaio azzurrato e la corona perlata con il tipico cabochon di zaffiro blu. Il Benioir si declina anche in altre versioni, compresi i modelli più grandi con cinturini in pelle o braccialetti in metallo. Alcune di queste varianti presentano diamanti sulla lunetta o addirittura un rivestimento completo di diamanti taglio brillante. Il Benioir continua a essere un'icona di eleganza e stile, dimostrando che il suo fascino rimarrà eterno nel panorama dell'orologeria. Grazie a tutti.